Vignazio Roberto Marino, one minute. Abbiamo assistito alla messa in scena di un essere che vorrebbe nascondere la drammatica realtà del suo regime. Ha parlato di valori mentre calpesta la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'Europa continua a trattenere i fondi destinati ai cittadini ungheresi, perché non vuole che vengano utilizzati da un dittatore. Un dittatore che ha istituito per legge l'ufficio della propaganda di Stato, così come fecero prima di lui Mussolini e Hitler. Ha fatto bene a citare tra i suoi amici chi non disdegna il saluto fascista, come alcuni cosiddetti leaders italiani. L'Europa è un'unione di valori e noi li difenderemo perché, come scrisse Shirula Ilyes, un poeta ungherese, dove c'è tirannia, là c'è tirannia. Non solo nel fucile, non solo nella prigione. Nel cielo, là sopra, anche la via Lattea appare diversa, appare come una frontiera.